Beh, che dire, grazie, grazie a te, a te, a te, grazie a voi tutti, siete 500.000, mezzo milione di persone che in poco più di un anno hanno visitato il mio canale, con questo video festeggio questo traguardo incredibile, anche perché io non ho mai fatto un video di questi virali come fanno i ragazzi che vanno a milioni, quindi sono video apprezzamenti di cinema e della mia carriera e poi in più sono anni che non faccio nemmeno un film essendomi dedicato in questi ultimi tempi a fare esclusivamente il teatro oppure delle ospitate di cabareo di musica in giro, quindi veramente mezzo milione sono veramente una marea, grazie, 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 che dire, è proprio una bomba! Vabbè ragazzi, ma io scherzavo!